... Muore nella notte un anziano di Civitanova, la settima vittima dell'ultimo bollettino, con l'87enne, i decessi salgono a 109, 80 nuovi casi su 862 tamponi e 100 guariti. Sindacati a Speranza e Procura, ospedali vicini al collasso, i confederali e le sigle minori sollecitano l'intervento del Governo e della magistratura sulla gestione Covid. Il sindaco di Campobasso chiede più tamponi. Viadotto sente dubbi sui fondi, dopo la firma della convenzione tra Anas e la provincia di Isernia, il Movimento 5 Stelle solleva perplessità sull'investimento. Per Andrea Greco mancherebbe una parte dei 2 milioni. Bazar della droga, tre arresti a Campomarino. I carabinieri hanno scoperto in un appartamento una centrale dello spaccio. Sono giovani tra i 23 e i 15 anni. Trovate anche armi e munizioni. Calcio e futsal, molisane tutte ferme. Nel fine settimana è impegnata solo la Magnole a Sesto San Giovanni. In Serie D è nel calcio a 5 e nessuna squadra locale scende in campo. Buon pomeriggio ben ritrovati con l'edizione delle 14 del nostro telegiornale. La situazione Covid in apertura con la durissima presa di posizione dei sindacati confederali e di altre sigle minori che hanno chiesto al Ministro della Salute speranza di prendere in mano la gestione Covid in Molise, dopo che tre ospedali maggiori sono praticamente al collasso. I sindacati hanno chiamato anche in causa le procure di Campobasso, Isernia e Larino. Ma sentiamo Giovanni Di Tota. Ospedali al collasso lo sostengono i sindacati confederali CGL Cislewil e Fialz Nursing e FSI che ora chiedono al Ministro della Salute di intervenire. Nella loro denuncia, inoltrata anche alla Procura della Repubblica, si fa riferimento alla situazione che sta sopportando il Cardarelli, diventato centro Covid, in cui i pazienti di altre patologie vengono spostati in altri ospedali. Questo, hanno messo nero su bianco le sigle sindacali, avviene ad esempio per i pazienti con patologie tempo dipendenti operati a Campobasso e mandati in terapia intensiva in altre strutture. Ma i sindacati hanno messo l'accento anche su ciò che accade a Isernia e a Termoli, dove i casi Covid vengono trattati in reparti comuni con il rischio notevole che il virus venga trasmesso a medici e infermieri, come in realtà è già accaduto sia al Veneziale che al Santimoteo. Fatto inaccettabile e irriguardoso nei loro confronti, dicono ancora i sindacati, perché da sempre sono in prima linea mettendo a rischio la propria vita. Questa organizzazione quindi evidenzia una non conoscenza del problema e assoluta approssimazione nella gestione dell'emergenza. Confederali e sigle inferiori hanno chiesto ai procuratori della Repubblica di Campobasso, Isernia e Larino di verificare se l'assistenza erogata in promiscuità, pazienti Covid e pazienti no Covid, mette a rischio la salute dei cittadini e dei lavoratori della sanità. All'Ispettorato del Lavoro di intervenire affinché l'ASREM ripristini gli orari di lavoro previsti dal contratto, perché 12 oro e giornaliere sono incompatibili e insopportabili da parte dei lavoratori con età media che supera quella nazionale. E al Presidente della Regione, al Commissario ad Acta e ai vertici dell'ASREM di evitare contrapposizioni e appoggiare l'intervento sostitutivo dello Stato centrale per la gestione dell'emergenza, dato che il Molise ha una percentuale di pazienti deceduti tra le più alte d'Italia. E intanto il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha invitato a potenziare il servizio per individuare le catene epidemiologiche. Oltre alla drive-thru di Selvapiana, ha detto che è necessario abilitare altri laboratori a fare i tamponi. Inoltre ha fatto anche il punto sulla situazione contagi nelle scuole. Tonino Danese. I numeri più alti di attualmente positivi al coronavirus si registrano nei centri più grandi, Campobasso, Isernia e Termoli. Il Sindaco del Capoluogo, Roberto Gravina, ha invitato ancora una volta a prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata a tutte le misure di prevenzione richieste. Diventa sempre più indispensabile, però, ha aggiunto, agire sull'individuazione rapida delle catene epidemiologiche, questione che si risolve potenziando il servizio. Gravina ha evidenziato l'importanza del drive-thru nella zona di Selvapiana per velocizzare le procedure, per individuare i positivi, anche per alleggerire il lavoro per il Cardarelli. Secondo il Sindaco, occorre comunque fare di più. Per fare questo, ha continuato, va data la possibilità, in tempi certi, anche ad altri laboratori, oltre a quello dell'ASREM, di effettuare questo genere di tamponi. E poi la questione, sempre centrale del Cardarelli, ha ribadito, dove solo un controllo terzo ci potrà dire se il personale organizzato da ASREM è sufficiente a garantire l'idoneità delle cure del mega reparto di malattie infettive. Sui casi riscontrati nelle scuole cittadine, il Sindaco di Campobasso ha fatto il punto, riferendo che sente ogni giorno l'azienda sanitaria per avere un quadro immediato. Posso affermare, ha dichiarato Roberto Gravina, che continua a persistere una situazione che, numeri alla mano, non dimostra affatto in questo momento un'evidenza di contagio tale da parlare di un'emergenza sanitaria nelle scuole della città. Questa settimana sono rientrate in presenza diverse classi dell'Istituto Montini, così come alla Jovine. I dirigenti scolastici, ha detto ancora, procedono subito e predispongono in autonomia, come previsto la didattica a distanza in caso di necessità. Il Sindaco ha reso noto che all'Istituto Colozza, come da disposizioni, è stata prevista la DAD per tre sezioni, nove classi della secondaria di primo grado. Classi dunque in quarantena. È risultato positivo un docente, come precisato dallo stesso istituto, per tutelare e salvaguardare la sicurezza di alunni e personale. Lunedì è stata effettuata la sanificazione, data successiva rispetto all'ultimo giorno di presenza dell'insegnante interessato. A seguito della riunione che si è tenuta questa mattina con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città e dopo aver analizzato la situazione dei contagi da Covid-19 nelle scuole, il Sindaco Francesco Roberti dispone la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, per le primarie e secondarie di primo grado, a partire dal lunedì prossimo 30 novembre. Ed è di 7 vittime e 80 nuovi casi l'ultimo bollettino dell'ASREM. In contagi ormai interessano il 95% dei comuni molisani. Ci sono anche 100 persone guarite. Il Sindaco di Larino intanto ha presentato un esposto in procura. Sentiamo. Cinque erano ricoverati in malattie infettive e due erano ospiti di case di riposo. Sono sette gli anziani che non hanno vinto la battaglia contro il Covid dal quale erano stati assaliti. E così, nell'ennesima giornata nera per il Molise, il numero complessivo delle persone decedute è salito a 109. I tre di Campobasso, due donne di 94 e 89 anni, la prima in infettivi e la seconda nella casa di riposo di Boiano, e un uomo di 85 anni, anche egli paziente del Cardarelli. Le altre persone decedute sono un'anziana di 90 anni di Cerce Piccola, che era nella casa di riposo di Vinchiaturo, e altri tre uomini, uno di Vinchiaturo, 97enne, un'ottantenne di Isernia e un'ottantasettenne di Civitanova del Sannio, deceduto nella notte. Resta di massima attenzione la situazione al Cardarelli. L'ultimo bollettino segnala 11 pazienti in terapia intensiva e 62 in malattie infettive. Due pazienti si sono aggravati e per loro è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva, uno al Santimoteo a Termoli, l'altro a Isola Caporizzuto in Calabria. Degli 80 nuovi casi, su 862 tamponi processati, si rinnalza la curva a Campobasso con 18 positivi e a Isernia con 12. Ormai i paesi con almeno un contagiato sono circa il 95% della regione. Intanto il sindaco di Larino ha scritto sulla pagina Facebook del Comune che nella residenza per anziani della città c'erano altri tre positivi e non sarebbero nemmeno i soli contagiati. Secondo Puchetti sarebbero stati trasferiti nella RSA di Venafro, aperta da qualche giorno, ma nessuno ne avrebbe dato comunicazione. Il sindaco di Larino ha chiesto chiarimenti a LASREM e ha presentato un esposto in procura perché vengano accertate eventuali responsabilità. Lascia intravedere uno spiraglio di luce la guarigione di 100 persone. E' morto Luigi De Renzis che in città era conosciutissimo come Gino, funzionario dell'Agenzia dell'Entrata in Pensione. Per alcune legislature era stato tra i banchi del Consiglio Comunale di Campobasso, eletto nelle liste del Partito Repubblicano negli anni 90. Tutti ne ricordano le doti intellettuali e un amore incondizionato per la città, tifusissimo della squadra di calcio. Nelle immagini di repertorio uno dei suoi interventi a Palazzo San Giorgio negli anni in cui era consigliere comunale. Tra le sue battaglie politiche in molti ricordano quella votata alla valorizzazione del centro storico cittadino. E torna questa sera ingresso libero alle 21. Si parlerà di Covid e della gestione dei pazienti sintomatici sul territorio. In studio con Tonino Danese ci sarà il medico di medicina generale e nefrologo Giuseppe Berardi, autore di un vademecum per medici di base e cittadini in cui si trovano risposte e domande ricorrenti sul coronavirus. Nella seconda parte intervento del geriatra Minodentizi e dei sindaci di Civitanova, Trevento e Termoli, Ciampicchiello, Corallo e Roberti. Quindi appuntamento per questa sera alle 21 su Telemolise. Cambiamo argomento. Dipendenti ATM in stato di agitazione per la mancata osservanza della normativa sulla sicurezza del personale prevista dai DPCM recepiti dalla Regione Molise. La nostra salute non è tutelata, dicono, e l'azienda sta sanzionando chi si rifiuta di effettuare la bigliettazione a bordo o a terra di vieto previsto dalla legislazione nazionale e regionale. Sentiamo. Stato d'agitazione per i lavoratori dell'ATM che stanno vivendo ormai da settimane un duro braccio di ferro con l'azienda. Motivo dei contrasti, il mancato rispetto delle normative anti-covid legate alla bigliettazione e al controllo a bordo dei mezzi. Da una parte c'è la Regione Molise che in ottemperanza di uno degli ultimi DPCM ha stabilito che il personale a bordo eviti ogni tipo di contatto ravvicinato con l'utenza, quindi niente biglietti a bordo o a terra, scambio di denaro o possibilità per gli utenti di avvicinarsi all'autista. Dall'altra c'è l'azienda che, dicono i sindacati del settore CGL, CISL, UGL e UGL, non solo ha deciso di ignorare i divieti, ma ha iniziato a sanzionare i dipendenti che non obbediscono all'ordine di servizio con contestazioni disciplinari spedite a raffica. Una situazione incomprensibile e sorprendente fanno presente i sindacati e i lavoratori, visto il tempo di pandemia e viste soprattutto le disposizioni nazionali recepite da quelle regionali. L'ATM invece, con un ordine di servizio del 17 novembre, chiede ai dipendenti tutto l'opposto, continuare a fare quello che hanno sempre fatto, i biglietti a bordo o a terra, e controllare passeggero per passeggero che abbiano il titolo per viaggiare. I lavoratori avevano anche proposto di utilizzare i colleghi posti in cassa integrazione per la bigliettazione a terra, ma l'azienda ha risposto picche. Le soluzioni che le ordinanze regionali avevano suggerito erano quelle di installare apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, da sanificare più volte al giorno, l'acquisto di biglietti in formato elettronico, online o tramite app, e comunque incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici e di evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. Ma l'azienda non ha minimamente provveduto. I dipendenti chiedono di lavorare in sicurezza e che venga garantita la loro salute, cosa impensabile in questa situazione. Da qui la decisione dei sindacati di indire lo stato di agitazione, anche perché ci sono altri problemi sul piatto da discutere prossimamente con l'assessore Pallante. Il mancato rispetto del contratto collettivo, la mancata costituzione di un comitato Covid, regolamentazione di attività oltre le 12 ore, la mancata consegna dei cedolini paga e la disciplina del personale non idoneo alla guida. Torniamo a parlare del viadotto Sente. Andrea Greco, portavoce dei 5 Stelle alla Regione, interviene sulla firma della convenzione tra Anas e provincia di Isernia, esternando la sua soddisfazione ma sollevando più di qualche dubbio su parte dei soldi stanziati per la progettazione che mancherebbero al conto finale dei 2 milioni. Enzo Di Gaetano. La firma della convenzione tra provincia di Isernia e Anas, che consegna la progettazione del viadotto Sente nelle mani dell'ente nazionale, è un atto voluto e inseguito fortemente dal Movimento 5 Stelle. Sin dal giorno della chiusura del viadotto, era il 18 settembre del 2018, Andrea Greco con i suoi colleghi e la delegazione parlamentare molisane-abruzzese ha lavorato al reperimento di fondi necessari da investire sull'importante infrastruttura. Troppo il tempo passato per il consigliere regionale Pentastellato. Sì, si arriva con due anni e mezzo di ritardo, però questa è una buona notizia, perché finalmente, diciamo per progettazione e studi di fattibilità, passa tutto in mano ad Anas, un obiettivo a cui abbiamo lavorato in maniera costante, davvero senza un giorno di tre. I primi due milioni dovevano servire per mettere in sicurezza il viadotto e ripristinare le condizioni minime di transitabilità. Di lì si è reso necessario perseguire la convenzione con un ente che fosse in grado di assicurare celerità e risultato. Primo passaggio fondamentale per avviare le opere di riapertura del viadotto era quindi ottenere un accordo con l'Anas, ma dice Greco, il viadotto potrebbe essere comunque riaperto in attesa dei lavori, con il senso unico alternato. Questo è un atto che sostanzialmente apre a dei nuovi scenari. Da oggi poi l'Anas si occuperà appunto della progettazione, degli studi di fattibilità. Poi chiaramente ci sarà da iniziare il cantiere vero e proprio, quindi quella sarà tutta un'altra partita. In quel momento chiaramente ci sarà bisogno dell'impegno di tutte le forze politiche in campo, della regione, di tutti i soggetti istituzionali per portare a casa il risultato finalmente della riapertura del viadotto. Ma la cosa più importante è capire in questo frangente se c'è la possibilità insieme ad Anas, naturalmente badando sempre la sicurezza dei cittadini, di poter aprire per esempio a senso alternato, mediante dei temporizzatori, insomma permettere agli automobilisti e ai mezzi di soccorso perlomeno di passare, di transitare sul viadotto. Questo è quello a cui doveva lavorare la provincia di Zernia fin dal primo momento. Fin dal momento in cui riuscimmo a far stanziare 2 milioni di euro per la riapertura appunto del viadotto Sette Longo, un obiettivo che la provincia non è assolutamente riuscita a centrare. Su questa vicenda, afferma Andrea Greco, sono in pochi a metterci la faccia. Noi continueremo a farlo, dice. Infine, ma non da ultimo, il Movimento vuole verificare per quale ragione dei 2 milioni di euro concessi dal Governo centrale oggi ne restano a disposizione solo 1,6, mangano ben 400 mila euro. Quanto pare sono stati spesi per un progetto che poi è stato bocciato. Io naturalmente intendo far luce su questa vicenda e interessare, se necessario, tutti i soggetti preposti al controllo, perché chiaramente parliamo di 400 mila euro di quattrini pubblici e quindi è giusto capire come sono stati utilizzati. Oggi però è un bel giorno, un giorno in cui i cittadini possono gioire e da oggi in avanti si inizierà a lavorare seriamente mediante i ministeri con ANAS per poter sollevare, per poter lenire le sofferenze di un'intera popolazione. Ustioni gravi per un 72enne di Colle D'Anchise riportate mentre cercava di accendere il fuoco nel cammino con una bottiglia di alcol denaturato che esplosa ustionandolo gravemente a prestare i primi soccorsi all'uomo. Sono stati i vicini, poi sono intervenuti i carabinieri e il 118. Blitz dei carabinieri in una casa di Campomarino trasformata in un bazar della droga e i militari hanno sequestrato sostanze di ogni tipo, armi e munizioni. Arrestati tre giovani tra i 23 e i 25 anni. Andrea Nasillo. C'erano già dei sospetti prima che i carabinieri entrassero in quell'abitazione. Sospetti fondati. Una casa di Campomarino trasformata in un bazar della droga. Tre giovani tra i 23 e i 28 anni sono stati arrestati. I militari tra quelle mura hanno rinvenuto ogni tipo di sostanza stupefacente. 8 grammi di cocaina, 8 di eroina, 25 di marijuana e 55 di hashish, già in parte frazionati per lo spaccio. Una sorta di laboratorio con bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Ma i carabinieri hanno sequestrato anche armi e munizioni. Una pistola calibro 6,35 sprovvista di marca e matricola. Tre cartucce dello stesso calibro. Un coltello a serramanico con tracce di hashish e anche la somma contante di oltre 1000 euro in banconote di vario taglio. Verosimile provento dell'attività. I tre giovani in concorso sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi e munizioni. Sono ai domiciliari. I carabinieri hanno avviato ulteriori accertamenti tecnici per analizzare la droga sequestrata. L'attività di controllo, assicurano dalla Compagnia di Termoli, nell'ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Campobasso, continuerà senza soluzione di continuità, con l'obiettivo di fornire ai cittadini una sempre più attenta e costante vigilanza. Un segno tangibile di gratitudine per il lavoro quotidianamente svolto dalle forze dell'ordine, in particolar modo dalla Polizia di Stato, per prevenire e contrastare gli episodi di violenza sulle donne, in particolare tra le mura domestiche. Così l'artista campobassana Silvana Di Paolo ha voluto omaggiare di una sua opera la questura di Campobasso donando un dipinto al questore Giancarlo Conticchio. La scena rappresentata sulla tela è simile a quella di fatti di cronaca accaduta a portare conforto, oltre che soccorso ad una donna in difficoltà, è una donna poliziotto che appare di spalle e che riprende la fisionomia propria di una delle agenti in servizio nella questura di Campobasso. Un Black Friday davvero nero? No, è stata firmata una convenzione tra confetti Cooperative Molise Diagnostica Montfortore, laboratorio di analisi di Riccia, per consentire ai soci delle cooperative aderenti alle associazioni e ai loro familiari di effettuare il tampone rapido antigenico e i test sierologici anticorpi totali a condizioni agevolate e in tempi brevi. In caso di esito positivo si dovrà procedere all'esecuzione del tampone molecolare classico. per eseguire il test è sufficiente effettuare una prenotazione. Informazioni sul sito web di Conf Cooperative Molise. Ed è stato presentato a Termoli il patto per la lettura, l'iniziativa già recepita dalla Giunta Comunale. Possono aderire scuole, librerie, associazioni, imprese private e biblioteche. L'assessore Michele Barili ha detto un nuovo modo per profondere cultura. Sentiamo. Dopo il titolo di Città che legge, Termoli vuole abbracciare una nuova sfida. L'assessore alla cultura Michele Barili ha presentato alla stampa il patto per la lettura. Insieme a lui tutta la struttura operativa. Gabriella Di Santis, posizione organizzativa del settore, Marilena Piermatteo, Antonio Lanzone, Antonietta Occhio Nero e Giuseppe Savino. Gli appassionati di lettura troveranno una giusta dimensione attraverso le varie iniziative che saranno realizzate. Un apposito spazio per Termoli, Città che legge, è già stato destinato sul sito istituzionale del Lente, dove si potranno trovare tutte le informazioni e la modulistica per aderire all'iniziativa. I soggetti che possono aderire sono le biblioteche, librerie, le scuole, le imprese private e le associazioni di volontariato. Nel mese di luglio scorso ci è stato riconosciuto e attribuito il riconoscimento di Città che legge. Lo step successivo era appunto quello di recepire il patto per la lettura. La nostra giunta l'ha recepito proprio la scorsa settimana e d'ora estendiamo l'invito naturalmente a tutti i soggetti presenti sul nostro territorio che possono essere interessati alla promozione della lettura, alla promozione del libro. Il patto per la lettura ha una durata biennale e punta sulla collaborazione tra i vari soggetti interessati e il comune di Termoli. Un passo importante per continuare a profondere cultura attraverso la lettura, un ambito che coinvolgerà i bambini ma anche giovani e anziani. Sarà creato un coordinamento al fine di avviare dei tavoli tecnici e pianificare tutte le attività da realizzare. Un tavolo di coordinamento che abbraccerà un attimino, ripeto, tutti i soggetti della filiera culturale strettamente legata alla promozione del libro e della lettura. Tavolo di coordinamento dalla quale poi nasceranno sicuramente iniziative proprio tese alla promozione della lettura e alla promozione del libro. Sarà un tavolo aperto a tutte, associazioni, istituzioni scolastiche, privati, tutti coloro che sono interessati e hanno realmente la voglia di impegnarsi e di mettere anche delle proprie risorse per la promozione della lettura e del libro. Un Black Friday davvero nero per i commercianti del settore abbigliamento, accessori e calzature. Abbiamo raccolto gli sfoghi e gli appelli tra i titolari delle attività commerciali di Isernia. Barbara Fino. A seguito del successo dell'iniziativa Off Day, che ha visto per la prima volta uniti tutti i commercianti del Molise con l'obiettivo di sollecitare aiuti e sostegni, è arrivato il momento di fare acquisti locali e sicuri con sconti e promozioni. Le restrizioni imposte ai negozi, dalle chiusure forzate per alcuni settori, allo stop nel fine settimana per i centri commerciali, rende difficile alle imprese di vicinato partecipare all'evento promozionale, uno squilibrio concorrenziale che rischia di spostare dai negozi fisici al web 83 milioni di euro di vendite al giorno. È proprio la spesa in abbigliamento e accessori, denuncia ConfCommercio, a subire il travaso più rilevante, con 25 milioni di euro al giorno dirottate verso i web e con l'inevitabile affluenza che precipita nei negozi delle città, proprio come Isernia. Noi siamo partiti col Black Friday già lunedì 22, ma ovviamente per tante ragioni, la gente ha ragione, non esce perché lo Stato non ha messo in condizioni di far uscire. Stiamo facendo lockdown praticamente aperti, perché ormai sono più di un mese che non si lavora, gli incassi sono diminuiti del 70%, non so che fine faremo. Ci siamo tutti indebitati, stiamo cercando tutti di andare avanti, ma non abbiamo aiuti di niente, 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 niente. Allora, stamattina sono avuti alcuni clienti che già hanno anticipato con qualche regalino di Natale, quindi speriamo di attirare il più possibile e noi facciamo il nostro meglio, facciamo. Pochissima gente. Quindi poca affluenza. Poca affluenza, perché la gente comunque ha paura, è spaventata e ha difficoltà a uscire proprio, quindi andare nei luoghi dove ci sono altre persone. Ma dobbiamo dire che non c'è l'affluenza degli altri anni e infatti ci aspettavamo un movimento diverso che purtroppo non c'è. Un settore un po' penalizzato, questo dell'abbigliamento. Sì, in realtà in questo momento siamo una delle categorie maggiormente colpite e quindi speriamo che presto questa situazione possa risolversi. Ma i commercianti molisani ce la stanno mettendo tutta. Da questo fine settimana e fino alla fine del mese i negozi della città invitano tutti per uno shopping intelligente, conveniente e sicuro, soprattutto in vista del Natale. Vetrine a tema, campagne social adeguate, distanziamento e igiene garantite in tutte le fasce orarie e un appello aiutare l'economia della propria città. Dico quel poco che dovranno spendere, spendetele nella vostra città. Lasciate stare i siti Amazon e via di seguito perché noi abbiamo bisogno di voi. Comprate nei piccoli negozi, quindi per non far morire Sernia perché veramente stiamo andando sempre male male. Quindi non comprate su internet ma aiutate noi. Venite a comprare nella vostra città, nei negozi della vostra città che siamo in difficoltà un po' tutti, quindi il rischio è che si chiude davvero. Perché si trovano gli sconti anche da voi? Ho visto anche meno del 50%. Sì, dal 20 anche al 50. Abbiamo tirato un po' fuori un po' tutto quello che avevamo nel senso di andare incontro anche alle esigenze delle persone. Spendere in queste nostre attività della città piuttosto che magari fare acquisti online, che spendere magari attraverso la rete, ma di venire appunto nelle nostre attività e spendere, far girare l'economia della città. Ha compiuto 100 anni, festeggiati in maniera sobria ma con l'affetto dei suoi cari, Maria Concetta Grassi, conosciuta da tutti come Zia Concettina, nata a Riccio il 26 novembre del 1920, un esempio di forza e valori per la sua singolare storia. Ottava figlia di una famiglia umile e laboriosa, vissuto la sua giovinezza in tempo di guerra in Molise per trasferirsi appena dopo in Argentina, raggiungendo in nave con una figlia piccolissima il marito emigrato per lavoro. Nel periodo peronista, la necessità di un nuovo trasferimento, altri 12 anni trascorsi in Canada e infine mezzo secolo vissuto nuovamente in Molise per gran parte al lavoro nel bar di famiglia. 100 anni senza mai perdersi d'animo o nemmeno davanti alla perdita del marito e della figlia. Alla neo centenaria, gli auguri anche da parte della nostra redazione. Con questa notizia concludiamo il nostro telegiornale, lasciamo la linea allo sport e dopo lo sport gli aggiornamenti del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.